Grazie a voi, intanto buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti, io sono onorata, emozionata di essere qui oggi con voi tutti perché si dice sempre la frase facciamo rete, allora io mi dico oggi è ora di farla davvero. Per chi si occupa di problematiche del digitale, formazione, giovani, istituzioni, oggi veramente abbiamo l'occasione con questo argomento di parlare di tante cose, credo che riguardi ciascuno di noi. Tra l'altro abbiamo veramente un parterre che vi voglio presentare, mi sono scritta tutto per non sbagliare, sbaglierò sicuramente qualche nome, qualcosa, quindi mi perdonate in anticipo. Il tema di oggi, ve l'ho già detto, è il bullismo, il cyberbullismo in particolare, cercheremo di capire un po' di più. Abbiamo come ospiti la dottoressa Alessandra Belardini, dirigente COSCA, adesso vi spiegherà lei che cos'è, centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna e Marche. Poi abbiamo il maggiore Alessio Perloca e il maresciallo Pasquale Roberto Scimenez Carabinieri, in rappresentanza del comando provinciale di Bologna e vedremo, insomma ci racconteranno tante cose. Poi abbiamo Claudio Canavese di Zanshintec, parleremo anche di arti marziali digitali e poi Fabio Denunzio e Maurizio Siracusa che in rappresentanza di Bullismo, no grazie. Parliamo di un argomento attuale, parliamo di un argomento spinoso, parliamo di un argomento, io facendo in principalità l'avvocato, mi rendo conto poi quando è troppo tardi ed è successo qualcosa, invece oggi è importante parlare di attività di prevenzione, di attività di formazione e sensibilizzazione perché gli strumenti che noi utilizziamo e di cui parliamo anche in questi giorni sappiamo che sono una grande risorsa, una grande ricchezza ma possono essere anche un gravissimo pericolo anche per i nostri ragazzi. Quindi anche forme ordinarie che prima venivano, diciamo appunto di questa attività anche di bullismo, venivano fatte e siamo stati vittime anche noi ai nostri tempi che adesso sono più pervasive e è più importante capire come contrastarle. Allora io darei subito la parola e partirei, io direi subito dalle forze dell'ordine per capire la grande attività che fanno loro, quindi io darei intanto in là la dottoressa Alessandra Bellardini che ci dirà intanto cos'è il COSC, così lo apprendo anch'io oggi, che cosa fa sul territorio in queste tematiche la polizia postale e quindi direi proprio l'introduzione alla dottoressa, grazie. Grazie, buonasera, grazie di questo invito perché è fondamentale in un concetto di prossimità far capire quanto la polizia di Stato in genere si è evoluta e soprattutto quanto la polizia postale delle comunicazioni ogni giorno si impegna per tematiche direi quasi agghiaccianti a volte come la materia del cyberbullismo. Allora cosa vuol dire COSC? È un termine senza la finale, COSC e basta, è un termine nuovo dal 21 di ottobre tutti i compartimenti di polizia postale delle comunicazioni che sono 20, che sono in ogni capoluogo di regione, hanno cambiato denominazione, cioè si chiamano COSC, centri operativi per la sicurezza cibernetica. Siamo 20 e però siamo anche in ogni provincia, qui in Emilia Romagna abbiamo un COSC a Bologna e abbiamo dei SOSC dislocati su tutto il territorio regionale. SOSC sono le sezioni operativi per la sicurezza cibernetica. Sostanzialmente la polizia postale, così cerchiamo anche un po' di fare il punto di che cosa fa, perché molti mi chiedono ma la polizia postale è polizia? Allora siamo assolutamente polizia, siamo una polizia di Stato con un know-how specialistico che è quello appunto di occuparci delle fattispecie criminose che si realizzano esclusivamente o prevalentemente con l'uso dello strumento informatico. Io dico anche ridendo che un omicidio che viene perpetrato con un cellulare, perché io prendo un cellulare e lo spacco in testa una persona e l'uccido, ovviamente non è di competenza della polizia postale, perché noi in realtà ci occupiamo di cinque settori. Il primo settore, che è un settore di grande respiro e di grandissima espansione, che è quello delle infrastrutture critiche. Cioè su territorio, un'azienda che sia pubblica o privata, un nucleo di produttività che detiene il dato sensibile, perché oggi le associazioni criminali lavorano molto sul dato sensibile, cioè sul concetto di informazione, per noi è un obiettivo da tutelare. E come lo tuteliamo? Lo tuteliamo in maniera preventiva e repressiva. Preventiva, attraverso tutta una serie di raccordi operativi tra noi e l'infrastruttura critica, che riguardano lo scambio di informazioni che sono importanti, attraverso cioè il concetto di alert. Che cos'è l'alert? L'alert non è altro che l'avviso, fatto in termini brevi e soprattutto con carattere tecnico, in cui noi che siamo sul territorio avvisiamo l'infrastruttura critica corrispondente che in quel periodo purtroppo può succedere che si sia perpetrato un determinato tipo di attacco a infrastrutture che sono simili, ma non in Italia, nel mondo. Perché diciamo che la struttura della polizia postale è una struttura circolare e quindi noi dialoghiamo con il Kennaipic. Lo so che sono parole difficili, ma in realtà non lo sono. Cioè il centro nazionale per la tutela delle infrastrutture critiche che si trova a Roma. Il Kennaipic in un'ottica appunto di fare squadra, di fare rete, con le altre polizie non nazionali, né internazionali, ma trasnazionali, riceve ovviamente quell'informazione importantissima che specifica che tipo di attacco in quel momento purtroppo può essere probabile che succeda anche nel nostro territorio e quindi ci scambiamo l'informazione. Quindi infrastrutture critiche. Secondo campo, che anche questo purtroppo è molto delicato, in cui però la polizia postale ha una competenza esclusiva, è quello della pedopornografia online. Cioè tutto quello che riguarda la produzione, la divulgazione, lo sfruttamento di immagini di pedopornografia, soprattutto per quanto riguarda un'ottica di repressione e quindi di ricerca nel web, in questo caso nel dark web, di quelle che possono essere appunto associazioni criminali che smerciano e commerciano su prodotti pedopornografici, ecco noi ci occupiamo di questo. Ci tengo molto a fare questa precisazione. Molti pensano che la polizia postale vada a caccia dei pedofili. Sì, facciamo anche quello. Però è bene anche capire che siamo nel 2022, quasi 2023, e oggi il prodotto pedopornografico è un prodotto, so che dico una cosa assurda, ma vi assicuro che è reale, è un prodotto commerciale. Cioè oggi non si confeziona più un prodotto di pedopornografia online per il solo uso esclusivo e personale, ma ci sono associazioni criminali che smerciano in prodotti di pedopornografia a scopo di riciclaggio di denaro sporco. Quindi è un'attività particolarmente invasiva. E particolarmente tecnica. E particolarmente tecnica. Non lo possono fare tutti ovviamente questo lavoro perché bisogna avere delle caratteristiche particolari che vengono ogni sei mesi testate. È chiaro che un agente della polizia postale sotto copertura che vede ogni giorno contenuti molto invasivi e molto pressanti da un punto di vista psicologico, deve avere una tenuta psicologica che va garantita e che va verificata per il suo bene e per il bene anche dei colleghi che lavorano con lui periodicamente, diciamo di solito ogni sei mesi. Terza materia, ci occupiamo della financial cybercrime, cioè di quelle che sono le operazioni finanziarie illecite di ampio respiro e soprattutto di uno spessore particolare, soprattutto per quanto riguarda la materia che oggi fa un po' sorridere perché oggi tutti vogliono investire in bitcoin. Però è molto pericoloso investire in bitcoin. Nel senso che ogni giorno noi riceviamo denunce di piccoli pensionati, di piccoli imprenditori, di casalinghe, che perdono tutti i loro risparmi perché si affidano a falsi promotori finanziari che promettono facili guadagni in poco tempo e fanno perdere loro tutto il denaro. Ecco, ci occupiamo anche di questo, ma ovviamente quando parliamo di operazioni finanziarie di un certo livello è chiaro che parliamo di financial cybercrime. Il quarto settore è il settore legato all'uso consapevole della rete da parte dei minori e quindi diciamo che andiamo quasi quotidianamente nelle scuole e diciamo che creiamo delle campagne di prevenzione per i ragazzi sull'uso sicuro della rete e all'interno di questo ambito rientra anche la nostra attività di prevenzione contro il cyberbullismo. Quindi questo, diciamo, è il panorama. Esatto. In tema di cyberbullismo lei giustamente dice, dottoressa, un caposaldo, cioè la formazione, che è quello che facciamo anche oggi e ci deve essere un'attenzione particolare rispetto alle scuole, ai minori, agli insegnanti. Ecco, quindi velocemente nella sua esperienza di attività. Ha trovato, la prima domanda che mi viene da chiedere, che vorrei chiedere a tutti voi, ma parto dalla dottoressa, ha trovato terreno fertile nelle scuole per parlare nel 2022, diciamo, a cinque anni da una normativa che l'ha introdotto, ad anni da queste problematiche. Voi trovate terreno fertile all'interno della scuola per dialogare? Perché anch'io lo faccio e, insomma, chiacchieravamo prima, trovo forse più terreno da parte dei ragazzi che da parte degli adulti. Allora, lei sfonda una porta aperta, nel senso che la legge del 2017, quindi è una legge anche monca, diciamo così, che doveva essere l'inizio per cercare di ragionare insieme su cosa si poteva fare, anche perché è una legge che ha dato delle possibilità enormi, tipo la creazione all'interno di un istituto scolastico della figura del referente per il cyberbullismo, si parla ovviamente dello strumento importantissimo dai 14 anni in poi che è l'ammonimento del questore, e si parla ovviamente anche della possibilità, e io qui sorrido, che lo stesso minore degli anni 14, da solo o unitamente ai propri genitori, possa richiedere la rimozione, al garante della privacy, di contenuti che sono altamente lesivi della sua persona. Ora, siamo tutti adulti e vaccinati, siamo tutti grandi, e sappiamo che parlare di rimozione in rete fa un po' sorridere. Una rimozione definitiva in rete, potete anche dirlo che l'ho detto io, francamente non può esistere, e quindi questo poi diventa un po' il lucro. Che è un problema enorme, la rimozione dei contenuti in tema di bullismo, in tema di tantissime fattispecie di reato, per cui è intervenuto il legislatore recentemente, penso insomma a tutti i problemi di revenge porn, poi abbiamo delle normative molto recenti, io faccio un po' l'avvocato, ma nel 2019 abbiamo avuto la normativa su revenge porn, che tra l'altro secondo me è perfettibile e migliorabile, come tutte le normative, poi spesso vengono scritte d'urgenza, i problemi invece rimangono. Lato Maggiore Maresciallo, chiedo a voi in rappresentanza appunto dei carabinieri, anche voi fate delle attività importanti, credo sia preventive, ma anche in tema di indagini cyber, quindi vorrei chiedere a voi un po' la vostra esperienza, anche sempre alla luce di questa normativa recente, il vostro punto di vista sulla materia, sulle problematiche e le attività che voi potete svolgere, insomma in aiuto a tutti noi. Sì, buonasera a tutti nuovamente, mi collego a quello che ha detto già la dottoressa, chiaramente la prerogativa, la specialità sulla materia della prevenzione del crimine informatico, dell'intervento in materia di crimine informatico nel cyberspazio, il legislatore l'ha affidata alla polizia postale delle comunicazioni. In questo senso quindi l'arma dei carabinieri non ha assetti di prevenzione, salvo chiaramente gli assetti territoriali che tutti quanti conoscete, che fanno principalmente attività di prossimità e vicinanza, quindi consiglio alla popolazione, parliamo delle nostre stazioni, stazioni, comandi tenenza, comandi compagnia, e anche noi partecipiamo, così come fa la polizia postale, a volte l'abbiamo fatto anche insieme ad altre articolazioni della questura, partecipiamo anche noi agli incontri nelle scuole e quindi forniamo quelli che sono strumenti e consigli ai ragazzi, soprattutto ai minori, per fornire loro una piena padronanza, una piena possibilità di autodeterminare correttamente i propri comportamenti sulla rete, e quindi cerchiamo di contribuire a quella che noi chiamiamo, ma come comunemente conosciuto, appunto una consapevolezza digitale, perché poi alla fine quello che riscontriamo quando ci troviamo a intervenire non è tanto la vulnerabilità dei sistemi informatici o altre criticità, soprattutto, ma non solo minori, le persone che incappano in crimini informatici sono poco esperte della materia fondamentalmente, non conoscono adeguatamente lo strumento, e non collegano la loro vita sui social, o addirittura oggi si parla anche di metaverso, non ricollegano quelle azioni, quei comportamenti, il semplice postare una foto, un video, a conseguenze nella vita reale, non lo ricollegano né le vittime dei reati informatici e nemmeno gli autori, a volte abbiamo riscontrato anche questo. E poi mi permetta e chiedo, però occupandomi, insomma sono poi tutte tematiche collegate, anche la sicurezza personale, noi parliamo, insomma siamo qua a parlare di sicurezza aziendale, però ci dimentichiamo poi della sicurezza personale, che è quella importante, anche in un ambito familiare, in cui il Covid ci ha collocato in un ambito di sicurezza interna e familiare molto più delicata e perimetrata, se mi permettete il termine, con quella aziendale, quindi ci siamo ritrovati tutti a casa, tutti insieme, con un unico dispositivo, o poco più, chi faceva smart walking o altro, quindi c'è anche un problema enorme. Quindi la mia domanda rispetto a questo, cioè a questo problema che abbiamo di cultura della sicurezza, in generale cultura della sicurezza informatica, qual è il problema che riscontrate maggiormente, proprio in relazione a queste attività criminose, che poi possono anche sfociare in tutte le attività di bullismo, quindi di molestia, o tutte le altre, quindi quali sono i rischi maggiori, che voi avete potuto rilevare, nella vostra attività anche di contrasto, di prevenzione rispetto a queste condotte. Parliamo dei rischi che le persone, ai quali vanno incontro le persone inconsapevolmente. se è un rischio più di mancanza di formazione di sicurezza, mancanza di tutela sui propri dispositivi, di comunicazione. Lo riassumo nuovamente, è un vulnus, una carenza di cultura digitale. Le persone non si rendono conto, ma voglio fare anche uno spaccato sugli autori dei reati informatici, sul criminale, oppure la persona che inconsapevolmente commette un delitto nel cyberspazio, non se ne rendono conto, perché non si rendono conto che dietro l'avatar, dietro quel nome utente, ci sono persone reali, ci sono comportamenti che hanno effetti sul mondo reale, e quindi si commettono reati di sostituzione di persona, di estorsioni, di frodi, di accessi al domicilio informatico, quindi l'accesso abusivo al sistema informatico. E anche le vittime, per fare uno spaccato sulla vittima, non si rendono conto che magari postare il dato personale, afferente alla propria persona, talvolta dati anche molto sensibili, possono essere carpiti, utilizzati in maniera dolosa, da criminali informatici, che possono, nel caso dei cyberbulli, utilizzare queste informazioni per offendere, aggredire e quindi mettere in ridicolo una persona, questo avviene principalmente con persone giovani, ragazzi, minori, oppure utilizzare quei dati in maniera criminali, o per fare profitti illeciti, rivendendo i dati, insomma tutto un mondo che ormai è conosciuto, ma del quale non tutti sono padroni. Anche perché lei ha detto il giusto, io mi rendo conto, poi occupandomi insomma anche tanto di diretti informatici, che c'è un problema enorme relativo all'empatia, su queste tipologie di condotte, che è anche poi quella che porta ai discorsi d'odio, che porta anche ai reati comuni, come la diffamazione online, quindi la mancanza di un contatto diretto con la vittima, che è un problema enorme che c'è su questa tipologia di reati, che spinge anche, anche l'autautore, sarebbe interessante approfondirlo, ovviamente abbiamo i tempi limitati, però anche l'autautore, a questi ragazzi che magari nella vita reale, e diciamo togliendo lo schermo protettivo da cui si sentono tutelati del computer, non commetterebbero mai. Posso raccontare un'esperienza diretta. Assolutamente. Mi trovavo in una scuola a fare una conferenza su questi temi e ho fatto una domanda molto diretta, a me piace essere molto diretto con i ragazzi, e ho preso una ragazza, avrà avuto 12-13 anni, gli ho detto te hai mai messo una foto in una posa un po' succinta, un po'... Ecco, mi ha detto sì, l'ho fatto, ho detto bene, avresti fatto questa stessa azione nella piazza della tua cittadina, nella piazza del tuo paese? Oddio, no, non l'avrei mai fatto. Questo purtroppo è una minore consapevolezza di quelli che sono gli effetti reali dei propri comportamenti in rete, quindi sicuramente la diminuzione dei frini inibitori è un tema, la percezione di avere una barriera nello schermo o nell'ascondersi dietro un nickname è un tema e quindi torno a dire che non si ha la percezione che alcune azioni possono essere veramente dannose. Però bastava poco a una ragazza dire una cosa di questo tipo, fare ragionare sugli effetti che si possono avere e sul fatto che poi, lo abbiamo detto, una condivisione di un'immagine di qualsiasi contenuto che è fluido, se ne perde completamente il controllo con effetti a cascata che possono essere anche veramente drammatici. E allora, proprio su questo aspetto, io chiederei a Fabio e a Maurizio di illustrarci e spiegarci il loro progetto di nobullismo, quindi l'attività voi che avete fatto e che state facendo molto pervasiva nelle scuole, con i genitori e quindi il lato vostro, proprio formativo, far capire, insomma, tutti noi l'importanza di questa cultura della sicurezza, di questa cultura del comportamento digitale anche. Allora, io intanto ringrazio naturalmente Mario, tutti coloro che hanno organizzato questo incontro perché fa sempre bene parlare di questi argomenti anche a persone che poi, per quanto riguarda la cyber sicurezza, sono, la maggior parte, sono tutti esperti. Devo dire, dopo 18 anni di striscia alla notizia come inviato, tre anni su Re1, ecco, è nata questa associazione da un paio d'anni insieme a Maurizio Siracusa e a Massimiliano De Stefanis che poi è il titolare di Cyber Team by Euroinformatica che attraverso loro insomma hanno creato questa struttura per andare in tutte le scuole in Italia, quindi girare un po' le varie regioni d'Italia per cercare di fare, ecco, la stessa cosa che fanno naturalmente le forze dell'ordine, prevenzione e informazione. Soltanto che noi lo facciamo un po' anche in maniera un po' diversa, nel senso che noi andiamo dalla seconda elementare fino al quinto superiore perché parliamo poi di bullismo perché non possiamo parlare di cyberbullismo già in seconda elementare perché i telefonini, diciamo, ancora non sono arrivati a qualcuno, sì, ma man mano crescendo dalla quarta elementare, quinta soprattutto, ormai lo hanno tutti e quindi si può anche parlare di cyberbullismo. Per noi, noi, oltre la mattina con i ragazzi incontriamo il pomeriggio i genitori perché il cerchio vero va chiuso con i genitori, perché i responsabili di tutto ciò che accade è proprio nella famiglia, ma questo lo sentiamo proprio attraverso le migliaia di ragazzi che incontriamo. Io, diciamo, più che dire delle cose sul bullismo, ecco, voglio dire degli aneddoti e raccontare quello che i ragazzi ci hanno raccontato, a partire anche e soprattutto molte volte dalla quarta elementare e noi riscontriamo molte volte, ecco, per quanto riguarda il telefonino, che già molti bambini, soprattutto in quinta elementare e poi in prima, seconda media, molto di più, i genitori non hanno le password del telefonino. Cioè, questa è una follia, perché? Perché ci dicono, no, mio padre non ha la password, mia madre perché non deve vedere quello che io scrivo. Però pensate a un bambino di dieci anni, undici, dodici, che non è controllato e quindi va incontro a tutta una serie di cose dove poi devono intervenire le forze dell'ordine, ma può essere molte volte anche troppo tardi, come tanti articoli che abbiamo visto e leggiamo. Oppure dicono, no, a volte i genitori ci rispondono, no, ma io gli tolgo la libertà se controlli il telefonino, la libertà. O a volte, proprio quelli che incominciano a travisare, no, è per privacy. Usiamo delle parole a volte verso i figli, quindi parliamo dieci, undici, dodici anni, tredici anni e ci mentiamo di tutto e la vera responsabilità è la nostra. Cioè noi genitori in teoria dobbiamo veramente fare un passo indietro per riprendere quello che dovrebbero fare i genitori. Oggi molte volte ecco, non c'è più rispetto delle regole, non c'è più rispetto delle persone, no, e tutto questo viene rispecchiato nella famiglia. Perché dici questo? Ma se ad esempio vedo che all'interno di questi bambini a volte io sempre prendo spunto da quelli più piccoli perché poi è sempre crescendo peggiorano. Se molti bambini io parlo ad esempio degli abbracci, dico ai bambini molte volte vi abbracciate tra di voi abbracciate i vostri genitori beh ci sono molti bambini che dicono i miei genitori non mi abbracciano. Cioè incomincia a crearsi quella distanza tra genitori e figli che poi è facile che i bambini e i ragazzi non raccontano più niente e si trovano a volte in situazioni che devono risolvere loro ma non ce la fanno e lì il burlo e il cyberburlo su persone così che sono fragili non raccontano creano quel muro che noi come associazione cerchiamo di andare a rompere perché la prima cosa che diciamo sempre è attenzione bisogna parlare io faccio solo un esempio io faccio l'esempio della mela ad esempio parto questo cioè quando vediamo una mela è bella tutta bella gialla però se la lasciamo fuori dal frigo per un po' di tempo incominciano ad esserci le macchiette marroni per poi dopo tanti giorni diventa tutta marcia è la stessa cosa se voi tenete dentro e non raccontate nulla ai vostri genitori a volte gli insegnanti le dirigenti e molte volte ho detto succede che se nessuno vi ascolta ci sono le forze dell'ordine che sono presenti 365 giorni all'anno 24 ore su 24 dove dall'altra parte se siete in difficoltà prima di fare qualsiasi fesseria prendete il telefono chiamate vi risponderà qualcuno che vi saprà poi vi saprà dare delle indicazioni perché dobbiamo dirlo tranquillamente ma lo sanno tutti abbiamo un pubblico adulto qui e poi sono molto avanti confronto diciamo ad altri cioè di bullismo e cyberbullismo diciamo tranquillamente si muore e non si può morire come la ragazza di 13 anni di Monopoli di qualche giorno fa perché è stata esclusa da un gruppo Whatsapp e perché le amiche non volevano più uscire con lei e lei si è suicidata si è impiccata nel bagno di casa sua e la madre l'ha trovata ancora col telefono che steneva stretto in una mano non è ammissibile ma tutti noi tutti noi possiamo fare qualcosa ma cosa possiamo fare ma lo stesso eventualmente noi come associazione siamo pronti ad andare nelle scuole se ci mettete in contatto attraverso naturalmente persone che conoscete noi siamo pronti ad andare a parlare a fare questi incontri per cercare di di dire ai ragazzi prima di tutto che c'è sempre qualcuno che li può aiutare e che se non siamo noi possono essere insegnanti possono essere i genitori possono essere forze dell'ordine o persone naturalmente proposte a volte sono i sindaci anche presenti insieme a noi e ho detto molte volte andate a bussare anche il sindaco può darvi una mano cioè nel senso bisogna dire ai ragazzi che molte volte sono fragili soprattutto i ragazzini piccoli che c'è sempre qualcuno che ti può tendere la mano cioè dobbiamo lanciare un messaggio positivo e non è tutto brutto sicuramente credo che il nostro incontro di oggi voglia assolutamente intanto grazie a Fabio io ho notato e non so se insomma anche voi lo avete notato sicuramente insomma voi di più no Maurizio il problema grosso è l'isolamento la solitudine che porta lo strumento informatico io il segno ragazzi un po' più grande perché hanno vent'anni quando rimanda a me all'università io dico sempre voi siete i figli delle mamme e papà del buongiornissimo caffè della cultura digitale zero i boomer i boomer sappiamo tutti che abbiamo un gap generazionale non si prenderanno a male i 50-60 anni che sono quelli che mandano la zia Pina ogni giorno quell'immagine e non desiste tra l'altro anche se tu non le rispondi lei ogni giorno ti manda buon mercoledì buon giovedì buon venerdì coi cuoricini e gattini e c'è un problema enorme di mancanza di cultura e c'è anche un problema enorme perché l'ho visto anch'io i genitori quando il figlio utilizza il telefonino usano il telefonino come tata pensando che il figlio sia un genio invece il figlio ha solo il pollice opponibile quindi in realtà non ha nessuna difficoltà in più ecco diciamo che il telefonino è creato per avere Mario non dico nu tu hai esperienza dei figli però sai che hanno solo un pollice opponibile tutti e quattro e tu hai quindi il problema è che noi diamo questi strumenti e l'informatica secondo me rende profondamente soli queste chat questa assenza di comunicazione noi siamo cresciuti e viva con ancora gli amici mi chiamavano al telefono mi citofonavano ci si parlava e ormai invece c'è questo isolamento secondo voi quindi anche secondo te nella vostra esperienza questo è il vero problema nel senso i ragazzi parlano poco il fatto anche di capire e dire che ci possiamo essere figure tutte diverse dall'avvocato alle forze dell'ordine alle arti marzella adesso arriviamo alle associazioni sul territorio potremmo aiutarli possiamo fare qualcosa assolutamente sì possiamo fare qualcosa mi allaccio proprio al tuo ultimo pensiero proprio perché andando in giro per le scuole quello che facciamo è raccogliere di fatto la fotografia dai ragazzi dai genitori e mediamente un bambino partendo proprio dai 10-11 anni la media che abbiamo più o meno calcolato è che passa circa 5 ore al giorno al cellulare al che i professori sono i primi che si stupiscono dicono ma come escono alle 4 da scuola come fanno a stare 5 ore al cellulare quindi questo dimostra come loro poi appena hanno la possibilità perché giustamente nelle scuole non glielo fanno usare quindi tanto qualcuno ma imparano anche da noi perché anche noi se vediamo il report del cellulare e siamo 5 ore al cellulare al giorno questo lo voglio dire perché poi non sia sempre colpa dei ragazzi perché ci vedono ma a cena basta andare in un ristorante e se si guarda quante persone non hanno un cellulare in mano anche solo adulti quindi questo porta a isolarli o a credere di vivere questa vita totalmente digitale creandosi delle vite creandosi dei lavori e non rendendosi conto come appunto diceva prima il capitano che c'è un qualcosa di problematico ci sono dei reati che vengono fatti con qualcosa anche di normale perché per esempio uno degli esempi che faccio con i ragazzi proprio per portarli al pensiero io gli dico sempre vi prendo soprattutto con i bambini fino a 10-11 anni andiamo in un negozio di giocattoli e vi dico scegliete un giocattolo lo mettete sotto nello zaino e usciamo sistematicamente tutti dicono no non si può fare è un reato non si deve rubare questo perché li porto al fatto che sappiamo noi che siamo nelle scuole che mediamente già a 10 anni quasi molti hanno un account di tiktok o su qualsiasi social o più social e questo quindi li porta a dire guardate che è reato andare a rubare ma è anche reato non dire la vostra realtà reale quindi state falsificando la vostra realtà adesso non vi sembra possibile però ipoteticamente ovvio poi non è così però per fargli capire come c'è un qualcosa che va fatto anche a livello di coscienza e soprattutto appunto sono i genitori i genitori per loro il cellulare è buongiorno buonasera gattini e quindi è un mondo paradisiaco non si rendono conto di quello che succede e non si rendono conto per esempio l'altro ieri venerdì eravamo in una scuola un ragazzino di 11 anni ha un canale su youtube e ha 15.000 follower 11 anni e i genitori non lo sapevano a parte che non lo poteva avere e questo fa capire come c'è un divario quindi quello che cerchiamo di far capire per quello lavoriamo moltissimo a raccogliere queste informazioni ma lavoriamo anche per dare poi ai genitori la possibilità di dire guardate che comunque potete dovete farlo perché poi ci sono anche tutta una serie implicazioni legali che a volte non immagino perché loro non pensano hanno fatto ma sì gli do il cellulare con la sin chissene e no perché poi il problema non è neanche giusto far leva lo vedo io quando vado nelle scuole sui genitori far leva sulla responsabilità guarda che se il tuo figlio combina qualcosa sei responsabile secondo me diciamo che il bastone della carota non funziona in questo caso senza una cultura esatto perché se no serve a poi il genitore ah glielo tolgo no non è glielo devi togliere devi mantenere un canale aperto devi capire un po' alla volta e gli devi aprire perché è un problema ci sono n problemi ovviamente il bullismo più altre condotte che possono esserci l'adescamento per esempio adesso infatti passo da Claudio perché ci dirà delle cose interessantissime su conosci il tuo nemico si può dire conosci il tuo nemico in questo ambito conosci te stesso e conosci allora conosci il tuo nemico non conosci te stesso 50% vinci 50% volte perdi conosci te stesso e conosci il tuo nemico ogni volta vittoria certo perché l'ho chiesto a te Claudio cosa si di cosa ti occupi di cosa vi occupate da anni perché fate qualcosa di meraviglioso quindi devi raccontare a tutti Zanshin Tech di che cosa si occupa Zanshin è una parola giapponese che significa la mente nel qui e ora è la mente del samurai del guerriero che non si fa prendere dal panico e se viene aggredito resta con la mente nel qui e ora Tech da tecnologia noi siamo la prima arte marziale riconosciuta a livello mondiale che si occupa di conflitto digitale non di conflitto fisico nel mondo fisico c'è un numero finito di modi in cui vi possono fare del male io arrivo vi prendo un polso vi prendo al collo vi do un pugno vi do un calcio a voi non interessa sapere perché non vi interessa sapere se io voglio rubarvi i soldi se voglio violentarvi se avete un colore di pelle diverso da quello che io gradisco a voi interessa fermare il pugno fermare il calcio usare la mia presa al vostro polso per portarmi a terra e influenzare l'aggressione fermando le singole tecniche l'aggressione è una successione di singole tecniche ma non lo potete fare se non imparate un'arte marziale vera che non è sport ma è prima di tutto saper gestire le proprie emozioni saper dominare la propria paura il proprio panico e avere quella mentalità marziale per cui sì io so fare delle cose ma no non ho assolutamente voglia di farle se non in caso di assoluta necessità ora portate questo nel digitale noi ci occupiamo di cyberbullismo da prima che in Italia se ne parlasse da prima del caso di Carolina Picchio da quando le scuole ci dicevano tanto in Italia non arriverà mai io vengo dal mondo hacker come molti di voi quando mi hanno chiesto di occuparmi di cyberbullismo ho fatto l'unica cosa che sapevo fare ho studiato ho smontato e ho capito come funzionava e se smontate il cyberbullismo l'adescamento lo stalking gli adescamenti online per poi rapire i minori le truffe ai danni degli anziani alla fine trovate 15 tecniche 15 pattern sempre uguali che sono i movimenti che l'aggressore fa per fregare il bersaglio non vittima bersaglio sei vittima se ti arrendi ecco l'arte marziale non sei vittima sei un bersaglio e tra aggressore e bersaglio l'aggressore è il più debole perché l'aggressore dipende da te ha un bisogno quindi se nel mondo fisico qualcuno mi prende al polso e io faccio un passo indietro lui mi segue se nel mondo digitale un aggressore adesca una ragazzina e la ragazzina è addestrata a Zanshintek la prima cosa che fa respira poi si sposta e se lo porta su un sistema dove lo può controllare Beatrice 13 anni qualche anno fa agganciata su facebook da Fabio tutti i nomi finti devo pensarci perché a me vengono quelli veri devo stare attento 16enne di Torino carino biondo le fa un sacco di complimenti lei è addestrata a Zanshintek l'arte marziale è ripetere per non ripetere l'ha fatto mille volte nel dojo riconosce le tecniche riconosce i segnali sa fare indagini online e ha soprattutto la disciplina lui la aggancia fa una serie di complimenti di cose e lei dice qua c'è qualcosa che non va decide di spostarsi su whatsapp e di portarselo su whatsapp è vero lei espone il numero ma avendo fatto Zanshintek ha già chiesto ai suoi genitori di cambiarle il numero perché si è resa conto che in passato l'ha dato un po' troppo in giro quindi sa già che quel numero lì verrà cancellato tra qualche settimana lui espone il suo e lei tramite il numero di telefono identifica chi è questa persona perché ci fidiamo di lei è arrivata a un livello tale per cui glielo abbiamo insegnato e lei dal numero di telefono trova che Fabio di 16 anni biondo carino di Torino ne ha 25 si chiama Alessandro non è di quella città ma di un'altra città è un neonazista estremista estremamente violento inneggia a bruciare tutti i barboni di notte con la tanica di benzina è iscritto a decine di siti di prostitute della sua città e siti porno è un 25enne violento fissato col sesso che si finge un sedicenne per adescare una tredicenne non indicare il tuo compagno non è lui no non era lui è un pedofilo la prima cosa che fa Beatrice secondo voi qual è? respira e si calma perché l'arte marziale insegna il dominio su se stessi dopodiché ci chiama perché non si resta mai da soli abbiamo una regola che si chiama regola del triangolo bisogna essere almeno in tre lei ha chiamato tutti e quattro i suoi sensei ha fatto un pentagono ma il pentagono è più figo di un triangolo ci piace tantissimo abbiamo controllato anche noi le indagini ci ha detto scusate è la prima volta che lo faccio davvero non nel mondo reale perché il digitale è reale noi ci abituiamo a non dire virtuale ma a dire digitale e fisico perché entrambi sono reali ma lei ha fatto indagini solo simulate nel dojo è la prima volta che lo fa davvero facciamo indagini identifichiamo questo soggetto confermiamo le sue cose le sue inferenze lei lo chiama per nome col nome vero e gli dice so chi sei vattene e lui risponde beccato punto e quel punto è comunicazione non verbale nel digitale beccato punto chiude la chat chiude il profilo scompare a quel punto lo segnaliamo alle forze dell'ordine tutto questo è avvenuto in nove minuti da quando lui è arrivato a quando lei lo ha spedito senza minacciarlo senza dirgli ora ti denuncio lui di lei si è dimenticato poi lo abbiamo segnalato alle forze dell'ordine perché loro pensano a fare questo lavoro l'arte marziale non crea dei vigilantes l'arte marziale crea delle persone in grado di gestire il digitale nel nostro caso e l'aggressione in grado di parlare col proprio aggressore in grado di influenzarlo in grado di raccogliere le informazioni necessarie a fare denuncia querela e basta e poi ci si ferma e soprattutto persone in grado persone che usano la tecnologia prima e meglio di chi mi può fare del male dagli undici anni in su vi posso assicurare che io ho dei ragazzini due giorni fa abbiamo fatto un'indagine simulata e due ragazzine di tredici anni in venti minuti hanno identificato dove si trovava una loro ipotetica compagna che ha postato uno status su whatsapp perché è fuggita di casa e ha deciso di andare a incontrare l'amores della sua vita conosciuto due settimane fa su internet era una simulazione ma basata su un caso reale che mi è capitato e loro in venti minuti grazie all'osint hanno identificato il punto esatto dove si trovava in venti minuti significa che poi posso chiamare loro e dirgli c'è una ragazza vestita così e così andate a prenderla la potenza dell'osint la potenza delle indagini che noi possiamo fare fino a un certo punto e le possiamo fare io direi la potenza ma poi mi permetto l'inciso è sempre l'osint è un'arma è la potenza di una mente in ordine assolutamente e anche la potenza del fatto che dall'altra parte c'è chi non sa tutelare la propria privacy lo dobbiamo dire perché poi noi ci possiamo anche io mi occupo di indagini difensive ci possiamo ci dobbiamo fermare e dobbiamo chiedere dobbiamo chiedere bisogna chiedere l'intervento delle forze dell'ordine perché alcune indagini alcuni provvedimenti l'allerta sul territorio che deve essere fatta anche perché se succede una ragazza quel soggetto va una ragazza un ragazzo quel soggetto va individuato e segnalato perché è fermato assolutamente quindi ovviamente possiamo arrivare in lato lato preventivo possiamo assolutamente queste tecniche sono fondamentali per aiutare persone fragili e deboli ad avere le misure che servono per conoscere capire non avere paura e comprendere di chiedere aiuto di comunicare di parlare di creare questa rete che ho detto all'inizio dobbiamo fare sempre e comunque per aiutare se vogliamo che veramente io sono una che nel web c'è sempre stata da quando praticamente ho messo i primi passi e l'ho studiato e l'idea che è venuta all'inizio di questa rete di collaborazione in cui tutti potevamo aiutarci la netichetta e quant'altro non si è perso cioè le regole l'educazione il fare rete quindi credo che sia importante l'educazione è fondamentale anche perché quando verranno aggrediti saranno da soli non ci saranno i genitori non ci sarà nessuno saranno loro che dovranno fare i primi movimenti corretti magari per non entrarci neanche nell'aggressione assolutamente i primi movimenti corretti sono fondamentali e sapere cosa fare intanto io volevo dirvi se avete domande alzate pure le mani io verrò adesso noi siamo quasi in chiusura quindi voglio rispettare i termini proprio per chiudere su questo aspetto io le vorrei chiedere a livello di diciamo finale quindi stiamo dicendo ci sono condotti di questo tipo di tantissimo tipo abbiamo visto su cyberbullismo possono esserci condotti di grooming di adescamento relativo ai minori nella vostra esperienza sul territorio lo chiedo a voi quanto carabinieri insomma sul territorio siete anche non anche nelle piccole città nelle piccole realtà quindi avete la possibilità insomma di intervenire immediatamente che cosa tre consigli che vorreste lasciare proprio sulle tematiche del cyberbullismo oltre alla formazione quindi oltre a comprendere alle famiglie cioè che cosa un genitore deve fare se avverte se ci sono degli alert relative a un minore quindi cosa fare le strategie giuste per sapersi comportare con questi ragazzi saper dialogare con loro buonasera a tutti quello che mi sento di dire alle famiglie di queste persone che purtroppo subiscono atti di cyberbullismo condotte molto violente è di presentarsi in qualsiasi caserma noi siamo aperti per tutti possiamo parlare di qualsiasi cosa io mi sono trovato molto spesso di fronte a ragazzine che piangevano senza i genitori che hanno raccontato delle condotte di cyberbullismo e anche di bullismo io posso dire diciamo a nome dell'arma dei carabinieri che noi siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo cerchiamo di fare il possibile e ben vengano persone specializzate come nelle tecniche di OSINT associazioni che aiutino anche le persone a risolvere anche praticamente sotto il profilo digitale questi problemi associazioni che aiutino quindi nel cammino digitale per la cancellazione dei contenuti perché molto spesso è normale ci sono delle persone che dicono ma io non so come si rimuovono i contenuti quindi ben vengano queste associazioni e ben vengono gli esperti anche di OSINT quindi analisi di fonti aperte che possano darci un supporto ulteriore alle nostre attività di indagini io personalmente mi sono trovato più volte di fronte a un muro soprattutto quando capitava di interrogare questi minori in presenza del genitore e dell'avvocato con risposte io non voglio parlare non mi avvalgo della facoltà io non voglio parlare quindi c'era anche una sorta di muro tra i genitori nella quale spesso il minore interrompeva qualsiasi tipologia di argomentazione che il genitore cercava di fare a quel punto è molto importante combattere questo fenomeno perché questi fenomeni diciamo creano un preambolo a future condotte criminose io penso che tutti quanti ci siamo trovati sia da piccoli che anche attualmente in condizioni dove siamo stati magari anche per un piccolo lasso temporale derisi dal gruppo immaginiamo se questi comportamenti che già a una diciamo a una prima età iniziano a formarsi sotto un aspetto diciamo denigratorio volendo anche criminale con condotte violente e altre diciamo condotte che possono creare danni psicologici non indifferenti proiettata nel futuro quando queste persone saranno diciamo maturate perché magari per alcune persone si tratta di un momento di un'epoca dove tutti quanti fanno uno scherzo una marachella ma per altre tipologie di carattere di comportamenti questo può creare diciamo delle condizioni per portare a delinquere qualsiasi tipologia di persone e quello è il motivo per cui ad esempio anche il procedimento penale minorile è completamente diverso c'è l'istituto della messa alla prova c'è l'osservazione quindi su questi ragazzi che possa capitare un episodio di questo tipo può essere sintomatico di qualcosa di altro anche a livello criminale oppure può essere un episodio passeggero che ancora di più può capitare per quello che ci dicevamo cioè per il fatto che questa mancanza di empatia crea si dice il bulletto crea insomma il soggetto che magari non farebbe mai un'attività di questo tipo nella vita reale quindi prego le 15 tecniche che abbiamo identificato nel cyberbullismo ci sono tutte ora io vi ho raccontato un caso di adescamento perché è quello più veloce che ho e il tempo era già finito ma mentre nel cyberbullismo ci sono tutte e 15 nell'adescamento nelle truffe ce ne sono un sotto insieme e stiamo studiando il fatto che alcuni dei cyberbulli poi si specializzano diventando grandi perché hanno capito che quello funziona e hanno altri tipi di condotte criminali basate su quello che a loro funziona quindi è vero nel cyberbullismo c'è tutto quello che poi può sfociare in diverse altre condotte per quello che ha senso studiarlo anche con gli adulti assolutamente da ultimo chiudo siamo nei tempi veramente ci sarebbe da dire tanto ma ovviamente se avete domande abbiamo tempo e quindi alzate le mani che vengo da voi ma diciamo che non voglio neanche rubare il tempo agli altri relatori e chiudo anche poi agganciandomi a volte la famiglia ma lo vedo anch'io da avvocato quando vengo chiamato c'è questa difficoltà a volte i genitori io preferisco che vengano fuori magari rimaniamo in camera caritate con voi delle forze dell'ordine che fate questo lavoro importante in modo che si possa parlare io dico sempre anche ai miei amici medici tu tuo figlio non opereresti mai no? e allora pensiamo anche noi che dobbiamo affidarci a soggetti terzi perché non potremmo e non siamo in grado di gestire quando c'è un rapporto stretto importante di cuore non riusciremo a gestire nella maniera più corretta la situazione quindi il mio diciamo quello che auspico quello che ho potuto vedere nell'esperienza personale e proprio per chiudere questo evento abbiamo tante personalità diverse formate sul territorio che possiamo che oggi anche magari abbiamo conosciuto grazie a Kimbo le abbiamo quindi cerchiamo di fare rete di non lasciare solo nessuno cerchiamo di continuare a creare una cultura digitale che è anche una cultura emozionale che serve ed è importante per il nostro futuro per i nostri giovani che sono il nostro domani quindi spero che insomma questa occasione questa chiacchiera soprattutto per aiutare i ragazzi e i bambini ricordiamoci che si è bullizzato che il bullo vanno aiutati entrambi entrambi non non dobbiamo dire ecco devono essere arrestati poi ho sentito a volte a volte docenti dicono sono dei criminali no no attenzione perché bambini di 11 12 anni 13 anni vanno aiutati entrambi perché il bullo molte volte dietro ha tante difficoltà che a volte ha aiutato il bullo e quindi voglio ecco precisare giusto questo concetto altrimenti sembra che ci scagliamo contro il bullo il cyberbullo certo sono cose che non devono fare ma bisogna anche portarli e fargli capire delle cose e gli errori che stanno facendo dipende poi naturalmente dall'età tutto questo e dalla condotta certo è chiaro come i sei cyberbulli che hanno fatto suicidare quel ragazzo di 14 anni in campagna un mesetto fa è chiaro che sono altre cose un po' più particolari però ecco cerchiamo di ecco di parlare dobbiamo ecco parlare tanto i ragazzi bisogna ritornare ecco a quel dialogo con i ragazzi e spiegargli tante cose perché loro sono tecnologici sono avanti con fronte a tanti genitori però molte volte non sanno le conseguenze quindi benvengano le forze dell'ordine che vanno nelle scuole eccetera le lo spieghiamo anche noi perché noi molte volte portiamo gli avvocati all'interno dei nostri anche incontri perché ecco devono sapere poi a ogni azione che cosa comporta e quindi le conseguenze quindi grazie anche a voi oggi perché con una platea del genere sicuramente possiamo portare questo verbo un po' ovunque quindi noi siamo veramente come associazione Bullismo No Grazie andiamo veramente in tutta Italia e abbiamo incontrato migliaia di ragazzi e siamo contenti perché tanti ragazzi continuano ancora ecco a ringraziarci oggi per gli incontri che andiamo a fare e molte volte li facciamo diciamo sì sì comandanti di Carabinieri perché molte volte vengono anche in paesini e quindi è molto più facile avere il comandante che conosce tutti voi anche con la polizia postale abbiamo collaborato io l'estate scorsa no l'estate l'anno scorso scolastico sono stato con il TIR hanno una bellissima il track sì però è bellissimo perché è bellissima questa cosa perché tutti i bambini delle scuole vanno presso questo questo track insomma che gira in alcune città d'Italia una bellissima iniziativa anche questa delle polizie postale io chiudere dottora Selle voleva fare una precisazione io volevo dire soltanto questo per il track siamo la non edizione siamo andati anche in Slovenia in Moldavia in Albania quest'anno perché ce l'hanno riconosciuta come diciamo una programma educazionale che altri paesi non hanno e quindi ce la vogliono ovviamente io sono stato in alcune io volevo aggiungere questo dunque l'OSINT è una cosa fantastica però non è poi così semplice nel senso che oggi Whatsapp è già superato l'adescamento online non avviene con Whatsapp l'adescamento online avviene con Telegram non con Whatsapp ed entrare dentro Telegram quindi sono gruppi chiusi non è così semplice allora il consiglio che mi sento di dare se ci sono genitori qui è questo sostanzialmente siccome la rete è una straordinaria possibilità ed è soprattutto uno strumento affascinante fare attività di indagine un bambino di 11, 12, 13 anni secondo me è un po' pericoloso no 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 siamo al terzo anno sì sì è comunque pericoloso allora io sono ovviamente una polizia che ha un certo target e quindi consiglio sempre questo allora innanzitutto è importante conoscere 10, 11, 12, 13 anni quali sono le applicazioni che il nostro figlio ha sul cellulare perché purtroppo non tutti conoscono l'uso di queste applicazioni quindi Whatsapp per carità oggi lo usiamo tutti ci sono i gruppi di classe che hanno Whatsapp però in realtà se un ragazzino di 11, 12, 13 anni ha Telegram sul cellulare ci dobbiamo preoccupare ma non perché Telegram in sé è chissà diciamo che è criminale assolutamente no ma è un'applicazione che ci permette di fare determinate cose in maniera tra virgolette segreta entrare in gruppi che sono particolari soprattutto navigare ahimè nel dark web perché ci sono ovviamente dei sistemi tecnologici che i nostri figli conoscono e dove vanno quindi io consiglio sempre nel dubbio di rivolgersi in ogni caso alle forze di polizia nel dubbio di rivolgersi sempre a un genitore perché ci sono delle situazioni in cui anche a far bene e anche a cercare di smascherare i cattivi tra virgolette ci si può trovare in problemi più grossi di noi quindi bene questi studi per carità però ricordiamoci sempre che si parla di bambini di 11, 12, 13 anni che non sono imputabili e che purtroppo si trovano di fronte a un mondo che è più grande di loro e se anche vogliono in qualche modo schermarsi e difendersi da soli non hanno la capacità di farlo solo questo grazie grazie a tutti grazie Mario dell'invito e rilascio a te la parola noi abbiamo un po' sforato il tempo ci scuserete ma eravamo tanti non so se no ok se vuole dire qualcosa scusate abbiamo sforato di qualche minuto scusateci solo appunto un'aggiunta perché giustamente è importante conoscere le applicazioni è importante sapere che potete controllare e lo dico io sono di niego nel senso applicazioni per sapere cosa fanno i figli ma anche attenzione a tutte le chat dei giochi perché tutte moltissimi passano tempo a chattare dentro le chat dei giochi delle vado console e quindi anche se non hanno un cellulare in realtà lì dentro passa di tutto grazie 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 alla precisazione grazie a tutti e allora grazie Mario e buona continuazione grazie Barbara grazie personalmente non so voi ma per me è stato un momento bellissimo mi è piaciuto un sacco vi ringrazio come già detto in privato io nel mio piccolo sono disponibile a darvi una mano qui a Bologna andare nelle scuole quello che volete grazie a loro che fanno cose ben più grandi da più tempo e alla prossima grazie grazie ciao a tutti grazie di Vekinbo grazie a tutti grazie a tutti